con noi. Vado a salutare, la ringraziamo per essere con noi, la direttrice di Sati, ovvero Guia Berti, ben ritrovata. Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno, allora direttrice, stiamo, siamo quasi in dirittura d'arrivo, eh, per quella che è la partenza di questo nuovo corso, giunto ormai alla trentasettesima edizione, quindi insomma, una scuola che annovera già alcuni decenni di esperienza, ma che riesce comunque ad essere in grado di formare davvero profili adeguati e prepararti al mondo del lavoro, anche dell'innovazione come dicevo in apertura, che sappiano come si sia evoluto negli ultimi anni, insomma, quello che è il mondo del lavoro e ecco come fa una scuola così particolare come la vostra ad essere sempre aggiornata e cogliere anche quelle che sono le necessità formative di cui c'è bisogno e che la società ci richiede, direttrice. Allora, Eva, innanzitutto ben trovata, era un po' di tempo che non ci vedevamo personalmente, non ci sentivamo, perché lasciamo quasi sempre noi ai nostri partner, ai nostri ragazzi, alle imprese che con noi lavorano di venire in radio e raccontare quello che sono un po' fino ai loro problemi. Ed è proprio da qui che parte la mia risposta, avere e ad ascoltare quello che sono le necessità delle imprese. Scuola Scienza Aziendale nasce nel 1985 proprio per questo, per questa ragione, quindi rispondere alle esigenze occupazionali del territorio, quindi ascoltare le esigenze del mondo del lavoro e avere una risposta adeguata. Quindi questa è un pochino la prima ragione. Poi, date anche le nostre dimensioni, è una scuola che riesce a modificare e ad adattare a quello che sono appunto le necessità delle imprese i suoi piani di studio. Io ricordo che lo scorso anno abbiamo rivoluzionato il nostro, il programma della specializzazione di marketing volgendola molto al digital in tutte le sue sfaccettature, quindi cercando di inserire il digitale in tutte le materie che noi affrontiamo durante il corso, perché questo è chiaramente quello che ci chiede il mercato. Io lo dico sempre, devo formare ragazzi e ragazze che possano trovare un lavoro. Se io sono distaccata in maniera eccessiva da quello che è l'aggiornamento, io rischio di formare disoccupati o persone non adeguatamente formate per affrontare il mondo del lavoro e per essere inseriti negli organici delle delle imprese. Quindi questo diciamo è cosa, ecco questo 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 processo è un processo che le scuole come l'università che chiaramente si parla di numeri, di numeri molto molto diversi, non riescono a fare oppure lo fanno con più lentezza e con più fatica. Quindi insomma un modello di scuola che riesce davvero a mettere in atto quello che forse il sistema come dicevamo prima pubblico insomma riesce a fare con più difficoltà, ne abbiamo affrontato spesso questo tema, aprendo quindi proprio anche un dialogo diretto con quelle che sono le imprese ma anche con gli studenti. Ecco come fate a raggiungere gli studenti in procinto di scelta del loro futuro professionale, quindi insomma i ragazzi dai 18 anni in su, direttrice? Ma allora i canali sono tanti, partendo dai canali social, le pubblicità, quindi tutto il mondo, tutto il mondo della pubblicità, quindi con tutte le sue spaccettature. Chiaramente la nostra, il nostro canale principale, il canale privilegiato anche se molto faticoso per tante ragioni è il canale diretto delle scuole superiori, quindi andare nelle scuole superiori rivolgendosi ai ragazzi di quarta ma soprattutto di quinta e raccontando chi siamo, che è una, cioè raccontando quello che è la realtà di questa scuola, che è una scuola del territorio per il territorio. Come lo facciamo? Lo facciamo raccontando loro che cos'è il mondo del lavoro, come banalmente noi andiamo nelle scuole, siamo andati all'istituto Dattini di Prato l'altro giorno con una platea di tantissimi ragazzi e abbiamo raccontato loro come si scrive un curriculum, abbiamo raccontato loro come si affronta un colloquio di lavoro, chiaramente un colloquio di lavoro di persone alla prima esperienza lavorativa, abbiamo fatto una simulazione prendendo dei ragazzi dalla sala, quindi cerchiamo anche di attirarli e raccontarli quello che siamo anche attraverso quello che facciamo, perché credo che sia una cosa molto importante. Ecco, insomma, veramente avere una bella opportunità a portata di mano, insomma, per i giovani del nostro territorio che, ricordiamolo, insomma, in soli 18 mesi possono mettere a fuoco quello che serve, prepararsi davvero ad entrare nel mondo del lavoro, perché c'è proprio questo filo conduttore, insomma, è proprio scuola, lavoro, a cui voi appunto li mettete attraverso anche un ufficio vostro dedicato proprio al placement, è così? Sì, abbiamo un career office, ora, in questa, siamo una generazione che ci piace usare tantissime parole non non italiane, però il career office è un ufficio collocamento, di collocazione, non so, non avrei, perché la lingua inglese è una lingua sempre molto puntuale nella descrizione, quindi sì, abbiamo un ufficio che è preposto per la gestione delle richieste in entrata da parte delle imprese e delle, scusate, scusami Eva, la richiesta in entrata da parte dei ragazzi, quindi degli allievi e le richieste, le necessità occupazionali delle aziende, quindi noi cerchiamo un po' di fare il matching per quello che riguarda naturalmente una fase post scuola. Durante il percorso, chiaramente come sai, il percorso dura 18 mesi, diviso in tre semestri, l'ultimo semestre prevede uno stage curriculare all'interno di una zona del territorio. Ecco, nella gestione della scelta degli stage, noi facciamo un lungo lavoro di conoscenza dell'allievo e dell'allieva e cerchiamo di incrociare le necessità dell'impresa e degli allievi. Questo è un lavoro molto capillare che possiamo fare anche perché non abbiamo numeri molto alti e quindi riusciamo molto a concentrarsi su quello che sono, su quello che è la persona, quindi gestire anche la parte emotivo-comportamentale, non solo quella didattica. Abbiamo anche avuto esperienze passate, poi chiaramente non è la mission principale della scuola di ragazzi che grazie alla scuola scelta aziendale sono andati a lavorare all'estero perché uno dei percorsi, una delle tre specializzazioni, ovvero la specializzazione in digital marketing prevede anche tre mesi di stagio estero. È un'opportunità molto importante, un'opportunità molto bella, la scuola rimborsa praticamente tutto, dal volo all'appartamento, li mettiamo a lavorare presso aziende o presso istituzioni italiane ed è una crescita molto importante e alcuni di loro rimangono. Io da quando sono qui ho già quattro ragazzi, sono rimasti a lavorare quasi tutti nelle Filippine. Questa cosa però ci fa un po' storcere il naso, direttrice. Siamo contenti per loro però ci piacerebbe perché evidentemente insomma il nostro territorio non dà anche grosse opportunità a questi ragazzi, no? No, è che prima di fare lo stagio, gli italiani loro vanno a fare lo stagio estero, chiaramente una lunga esperienza all'estero, alla fine te la rivendi molto bene, poi alla fine tornano quasi quasi. Ecco, l'importante è quello, ecco. Non tutti tutti ma qualcuno, nel senso di chi rimane, chi decide di rimanere oltre i tre mesi canonici, ce n'è solamente, da quando sono direttrice ce n'è solamente uno che nel partito del 2016 è rimasto a Manila a lavorare. Certo la sua mira, la sua intenzione, nel suo cuore, lui dice sempre che non poi tornerò però per ora è là. Eh perché se si ritorna lì bisogna creare anche le opportunità di lavoro a questi nostri e questi nostri giovani senza ombra di dubbio. Insomma veramente una bella realtà la Sati tutta fiorentina che ha proprio come suo valore fondante quello proprio di diffondere cultura di imprese e dotare quelli che poi sono appunto i manager del futuro, delle giuste competenze. Una realtà che ogni anno inoltre mette a disposizione anche diverse borse di studio, giusto? Esattamente eh diciamo che sono in tutto sono sono cinque le borse di studio che noi eh diamo ai nostri ragazzi. Eh tre elargite grazie a Confindustria, quindi al gruppo giovani Confindustria, ricordo a che Confindustria è uno dei nostri soci fondatori. Eh una del per i business tutors erogata da KME che è un nostro social sostenitore e un'altra di duemila euro, quindi sono diciamo cinque mila euro quelle eh di di Confindustria suddivise tra duemila mille due ottocento, cinque mila euro per chi vince il business tutors e duemila euro per la miglior presentazione del business tutors. Quindi ecco c'è stato in passato chi ha vinto la borsa di studio di Confindustria, ha vinto il business tutors e con il rimborso spese del del dello stagio alla fine non solo si è ripagato la retta della scuola ma addirittura ci ha guadagnato quindi insomma l'impegno è sempre pagato. Grazie, grazie davvero alla direttrice Guia Berti della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali di Firenze per Obaldesi per essere stata qua con noi. Ricordiamo anche insomma il progetto Muratidea Park, ricordiamo dunque che il trentasettesimo corso in gestione di impresa sta davvero per iniziare, le candidature sono ancora aperte, solo a fino a lunedì ventiquattro ottobre ricordate tutte le info sul sito www.sati.it ricordiate sati ssati.it. Grazie ancora, adesso noi diamo la linea alla regia per poi tornare ancora ad occuparci di innovazione, a occuparci